Sta meglio il bimbo di 7 anni colpito da meningite da meningococco B. A distanza di tre giorni dal ricovero le sue condizioni sono in miglioramento ma i medici dell'ospedale Fiorentino Meyer non hanno ancora sciolto la prognosi. Il bambino era stato soccorso dopo che i genitori avevano notato alcuni sintomi propri della patologia diarrea, ipoattività, febbre alta, diagnosticata poi all'ospedale San Donato di Arezzo. Da lì il trasferimento a Firenze. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asla Toscana Sud-Est aveva immediatamente attivato le procedure di profilassi per tutti coloro che avendo contatti stretti con il bambino risultavano maggiormente a rischio contagio in tutto 50 persone. Il bambino pare fosse stato regolarmente vaccinato. Comunque sì, a prescindere dal fatto che potesse essere o meno vaccinato sappiamo che ci possono essere dei casi di meningite anche in soggetti vaccinati perché comunque in rari casi la risposta anticorpale può essere non sufficiente. Direi che la vaccinazione, nel caso specifico antimeningococcica, sia B che C per le popolazioni verso cui è raccomandata, è fondamentale non solo e esclusivamente per il soggetto, quindi per il singolo individuo, ma anche per la popolazione generale perché comunque noi vaccinando sempre più persone dove è raccomandata o perché per età o perché hanno fattori di rischio per cui è necessaria questa vaccinazione, proteggiamo la popolazione. Con questo salgono a tre i casi di meningite nell'aretino dall'inizio dell'anno. A primavera lo stesso batterio che ha colpito il bimbo di 7 anni aveva ucciso la 21enne Sofia Panconi. Qualche giorno più tardi si era verificato un altro caso, un 57enne colpito da un meningococco di tipo C e si era salvato.